Finalmente agli incisori può essere riconosciuta la categoria di artigiani, come si è arrivato a questo? Ringrazio l'amministrazione, ringrazio i due settori dell'urbanistica e del swap. Io, tempo fa, diciamo qualche mese fa, incontrando tutte le categorie e incontrando l'Asso Coral, con il presidente Vincenzo Aucella, mi fece presente un poco questa problematica annusa che già sta sul territorio da circa 50 anni. Quindi automaticamente ho messo subito in atto le potenzialità per risolvere questa problematica e ad oggi abbiamo trovato un punto di equilibrio fra i due settori, swap e l'urbanistica, in modo tale che oggi, tramite impresa in un giorno, oggi la categoria dell'incisore, avendo ripreso una legge del 1939, la numero 146, dove dice chiaramente che un artigiano è contemplato in una categoria di immobile C1. Quindi automaticamente chiunque riveste il ruolo dell'artigiano, quindi nel caso nostro l'incisore che incide sia sulla pietra e per quanto riguarda il cameo inciso e il corallo, rientra nella categoria dell'incisore. Chi ha favorito questo processo? Allora, questo processo è stato favorito dal nostro gruppo con il consigliere Antonio Sperto, per quanto riguarda invece l'assessore e l'architetto Polichetti, con i due dirigenti sia dell'urbanistica e del swap, e con il mio incarico politico che è servito per mettere in atto queste sinergie affinché si dava una risposta definitiva a questa problematica. Riprendendo quindi la legge del mio 139, la numero 146, oggi attraverso l'impresa in un giorno si può delineare definitivamente la problematica degli incisori. Quindi è qualcosa di importante per Torre. A questo punto tutti gli incisori che vorranno da soli mettersi sul territorio attraverso l'attività con C1, metteremo in atto poi nel tempo da parte loro una nascita come se fosse un borgo. Quindi questo diventa pure un incubatore turistico e commerciale per il nostro territorio. Quindi finalmente Torre del Greco metterà in atto le sue potenzialità visive attraverso pure poi delle grandi pubblicità del territorio per far attrarre sul territorio sia turisti che lavoro per quanto riguarda le nuove realtà. Grazie.